Musica Ciao a tutti, siamo qui sotto la pioggia Arco che è appena finita la prima gara di campionato italiano è andata abbastanza bene, il sabato abbiamo già disputato una manche i tempi sono riuscito a fare un discreto tempo la prima manche del sabato ho concluso in quarta posizione peccato perché hanno interrotto la gara perché era buio, diventava buio ed era molto pericoloso e quindi hanno preferito interrompere la gara e ho finito in quarta posizione invece la domenica nella seconda manche ho fatto di nuovo quarto e nella super campione sono riuscito a partire bene sotto l'acqua e tutto, ho fatto primo e ho vinto e niente, sono contento, ringrazio tutto il team, i miei genitori che sono venuti a seguirmi e niente, grazie a tutti gli sponsor grazie e speriamo di continuare così grazie a tutti